Nicola Ciccilla Siamo giunti alla fine di questa serata. Un sacco di concetti, mi scuso perché in effetti forse ho voluto esagerare. Quello che vi ho detto è che è vero, è difficile. È veramente un puzzle difficile mettere insieme tutte queste cose perché la nostra predisposizione genetica insieme a diversi tipi di nutrienti alle relazioni sociali, all'attività fisica alla meditazione, all'aria pulita tutte queste interagiscono per creare longevità salute fisica e mentale attenzione, non facciamoci ingannare non esistono facile soluzioni ci piacciono queste idee c'è questo fitocomposto che ti fa vivere cent'anni c'è questa dieta non è così semplice la via della consapevolezza è complex but right not simple but wrong la via della salute e della consapevolezza dello sviluppo spirituale dell'uomo è un percorso difficile, lungo una ricerca individuale che dura un'intera vita e infine, questo è il mio pensiero riassuntivo finale è che secondo me quello che dovremmo cercare di fare poi magari non ci riusciremo però perlomeno bisogna cercare di cercare di raggiungere una felicità stabile superando le sofferenze inferte da malanni fisici, mentali, morali e spirituali e per ottenere una felicità reale e durevole è essenziale mantenersi sani mangiando in modo corretto e praticando una gamma di esercizi fisici cognitivi e meditativi che potenzino la nostra forza e resistenza fisica e la nostra intelligenza emotiva, intuitiva e creativa solo così, secondo me, saremo in grado di godere a pieno sino a tarda età insieme ai nostri figli immagino che tutti noi vogliamo cercare di vivere il più lungo per vedere i propri figli crescere magari i propri nipoti goderseli godersi il mondo a 75 anni essere in grado di poter andare a farsi in giro nell'Himalaya in giro per il mondo se sei sano lo puoi fare quello se sei malato te ne stai a casa o se sei demente o paralizzato e praticamente goderci appunto questo mondo che è meraviglioso e vi lascio con questo ultimo messaggio che in effetti è vero siamo fortunati la vita è un dono e non dobbiamo scordarcelo Sì? Sì, sì Luigi, grazie presentazione splendida io ho capito due cose una che domani vado con mia moglie a litigare a casa di sicuro questo è matematico l'altra è la parte finale nel senso che comunque la ricerca di un equilibrio customizzato come dicono gli americani individualizzato per ognuno di noi probabilmente è una soluzione difficile è un cammino e piano piano ognuno deve andare per cercare quel tipo di trovare il proprio equilibrio personale nei confronti di alimentazione vita stile di vita meditazione eccetera eccetera e niente io direi che se qualcuno ha qualche domanda da fare al professor Fontana questo è un momento ideale buonasera buonasera dottore nei suoi consigli sull'alimentazione vedo che non ha parlato ma anche perché l'argomento è molto complesso va bene frutta e verdura cereali integrali ma da dove viene la frutta e la verdura? è un'ottima domanda questa è veramente un'ottima domanda e riapre il discorso della mindfulness noi non ci chiediamo neanche più da dove arriva il nostro cibo non ci rendiamo conto che tutti i farmaci ad esempio che uriniamo finiscono nel fiume che finiscono nelle acque profonde che finiscono nel pesce che finiscono per essere udati alle piante per essere agli animali questo è un argomento complessissimo che torniamo indietro al discorso della mindfulness cioè fondamentalmente non ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo passivamente in maniera del tutto non mindfulness facciamo qualsiasi cosa senza chiederci da dove viene cosa facciamo assolutamente ragione la qualità della carne delle uova della frutta della verdura anche solo l'effetto delle scie chimiche chiamiamole chimiche adesso non esageriamo non andiamo troppo lì per le scie chimiche però ci sono delle cose veramente più più obiettive sopra il Trentino passano 400 aeree al giorno ma non solo il problema è che ci sono delle rivelazioni fatte dall'ISPRA che è l'agenzia per la protezione in cui la maggior parte delle acque superficiali del nord Italia sono inquinate e anche le acque profonde da pesticidi erbicidi e via dicendo usiamo tonnellate di fosforo e nitrogeno per coltivare i campi per dar da mangiare gli animali che producono inquinamento che inquinano il terreno che finisce nell'acqua che causa praticamente l'itrogeno fa crescere le alghe che causano fondamentalmente morte dei pesci quindi allora quello che mi dà fastidio è perché lei ha toccato un punto importantissimo che abbiamo le conoscenze al giorno d'oggi per vivere in un mondo fantastico cioè al giorno d'oggi abbiamo le conoscenze per avere macchine elettriche bici elettriche abbiamo la tecnologia solo che non la vogliono implementare per fare delle macchine in fibre di carbonio che non pesano niente che hanno il motore elettrico sull'asse quindi tutto il discorso della trasmissione sparisce non serve più tutta quella dispersione della trasmissione che consumano praticamente nulla nel futuro abbiamo la tecnologia per farle andare non elettrico ma farle andare praticamente a idrogeno quindi con delle celle non con la combustione ma praticamente producendo vaporacqueo abbiamo le conoscenze già adesso per fare delle case che non consumano nulla che producono energia le fanno in alto adige abbiamo le conoscenze per mangiare bene ve l'ho spiegato cioè mangiando bene non soltanto andiamo a impattare la nostra salute ma come diceva lei la salute dell'ambiente immediatamente se noi riduciamo il che non significa che dobbiamo aumentare i vegetariani nessuno ha detto questo ma la dieta mediterranea mangiavano carne una volta a settimana pesce due volte a settimana e il resto erano i legumi cereali questo avrebbe un impatto pazzesco sull'inquinamento dell'aria dei terreni delle acque la riduzione di farmaci che vanno a inquinare l'acqua cioè è una rivoluzione che sembra copernicana ma è a portata di mano solo che siccome non siamo mindful andiamo come gli automi e stiamo praticamente mettendo in ginocchio questo pianeta c'è qualche altra domanda tutto chiaro il consumo elevato di alimenti fermentati fa male alla salute tipo il comuca o altre cose del genere non ci sono studi prego non ci sono studi scientifici quindi non potrei dirle né sì né no grazie prego altre domande sì probabilmente sì non ve ne maniazzate allora torno sul palco complimenti non servono perché abbiamo già apprezzato una domanda sul la congiunzione metalli cervello hai qualche nozione? metalli? sì cosa intendi? i metalli che sono nei cibi che sono comunque nell'alimentazione in generale l'influenza che fanno ci sono degli studi che suggeriscono che siano una delle cause del Parkinson c'è questa cronica esposizione a metalli pesanti che si accumulano potrebbero essere una delle cause del Parkinson sono studi scientifici avanti o sono ipotesi? non è il mio argomento quindi ti dico non ti posso dire con certezza però so la qualità degli studi non te la posso dire però so che c'è una una scuola di pensiero abbastanza solida che trova una connessione non solo con metalli pesanti con altre sostanze tossiche che poi praticamente vanno a fare morire alcune cellule nel cervelletto che poi causano il Parkinson grazie prego altre domande? no allora direi che posso tornare sul parco allora Luigi grazie mille della splendida serata che ci hai dedicato grazie mille ancora speriamo di rivederci presto ancora grazie al sindaco Alessandro Betta che ha reso possibile questa strana congiunzione di energie e ancora grazie al dottor Carlo Petrolli che è venuto in rappresentanza dell'ordine dei medici grazie a tutti voi e buona serata io credo che qualcosa ognuno di noi questa sera sia riuscito comunque a destrapolare da quello che Luigi ha detto ognuno a sua maniera come si diceva alla fine nel senso che ognuno comunque si può creare la propria la propria personale ricetta per per il well being per lo sta bene per l'invecchiare bene grazie a tutti e buonanotte ancora grazie a tutti grazie a tutti